Mi dicevi che hai impiegato quattro anni per scrivere questo libro guida, che riguarda i posti che si trovano sulla riva destra del fiume Tevere. Il lettore di Trastiberim, Trastevere e il mondo dell'oltretomba, come lo dovrebbe considerare? Beh, dovrebbe considerare questo libro come un amico guida con il quale si sta passeggiando per Trastevere, uno dei quartieri più suggestivi di Roma, avendo appunto vicino una guida che sveli con pazienza la storia, il significato simbolico di ogni edificio, piccolo e chiesa che si incontrano. E' questo lo scopo di questo libro, che molti dicono che è un agile volume illustrato. Appunto, partendo dalle origini di Trastevere, esso vuole ricostruire e rendere al lettore il fascino, non soltanto tramite analisi di tipo artistico-architettonico, ma anche attraverso il racconto di aneddoti che si perdono tra il verosimile e il leggendario, e vicende di personaggi più o meno celebri che hanno legato le loro azioni e la loro vita a questo storico rione. Trastiberi, comunque, è una guida storica, un saggio che descrive minuziosamente i luoghi, i monumenti, i colli di tutta la sponda destra del Tevere, fino alla sua foce. I colli che si trovano a Trastiberin non sono i famosi sette colli che stanno a Cistiberin. Grazie a tutti.